ma influisce negativamente anche sulle persone che gli stanno vicino e quindi un problema ha sempre una soluzione se è un problema, se è un dato di fatto devi imparare ad accettarlo, infatti c'era qualcuno che diceva signore dammi la forza di riconoscere e dammi la capacità di cambiare ciò che può essere cambiato e la capacità, la forza di accettare ciò che non può essere cambiato e l'intelligenza di discriminare tra i due, cioè tu devi discriminare tra quello che è un problema e quello che è uno stato di fatto, un dato di fatto perché un dato di fatto non è un problema, se tu sei alto un metro e cinquanta, quello è un dato di fatto, non è un problema, cioè non è che come dire no, se invece sei un ciccione quello è un problema che puoi risolvere facendo la dieta mentre per adesso l'allungamento non è previsto, la riduzione è prevista, quindi devi accettare il fatto che sei alto un metro e cinquanta ma non devi accettare il fatto che pesi cento chili o centocinquanta chili perché dai centocinquanta chili puoi dimagrire allungarti non è possibile ovviamente no, quindi accetta la tua statura ma non accettare il tuo peso, questo per fare un esempio no, qual è la differenza tra un problema e un dato di fatto poi magari se un giorno verrà che uno si può anche allungare si allungherà pure fondamentalmente, ma questo è un altro discorso, poi va bene uno può usare dei palliativi, le donne magari che sono basse usano delle scarpe con i tacchi alti e sembrano più alte ma di fatto è un palliativo, quindi questo è importante, quindi le persone diciamo nel momento in cui tu ti liberi di una persona di questo genere ne hai soltanto dei benefici ne hai soltanto dei benefici, questo è un punto fondamentale, tieni presente che le cose fondamentali sono quelle che tu puoi risolvere salutiamo la nostra erosi, quindi nella vita noi dobbiamo accettare quello che non può essere cambiato e dobbiamo cambiare quello che può essere cambiato e questo è un po' il concetto fondamentale che dobbiamo portare avanti, questo ha un impatto ovviamente anche sulla salute quindi dobbiamo eliminare dalla nostra vita le persone negative, le persone che portano sfiga, le persone che hanno una visione negativa della vita quindi per eliminarle devi renderti conto che ci sono, quindi devi riflettere sulle relazioni che hai, che tipo di relazioni hai, che tipo di persone sono e poi devi impostare dei limiti, impara a stabilire dei limiti chiari, impara a stabilire dei confini chiari con le persone negative limita il tempo trascorso fino ad azzerarlo gradualmente, devi imparare a creare una distanza emotiva non devi credere nelle persone lamentose che si lamentano, che sono sempre pieni di problemi ognuno si deve risolvere i suoi problemi, non è che tu devi farti carico dei problemi degli altri perché nel momento in cui ti fai carico dei problemi degli altri non riesci più a risolvere i tuoi quindi questo è un punto fondamentale, anche se non puoi evitare del tutto magari queste persone negative perché magari sono un tuo genitore, un tuo figlio, un tuo parente, le persone malvagie e poi le persone negative sono quelle più vicine a noi, perché se è negativo il figlio del portiere col quale non interagisci neanche, che cavolo te ne frega, quello è come è il problema è delle persone negative, quando sono all'interno della nostra amicizia, all'interno della nostra famiglia quando sono i nostri genitori, i nostri figli, i nostri fidanzati, i nostri mariti, le nostre mogli eccetera eccetera è lì che te le devi togliere dei coglioni, cioè devi creare distanza emotiva ovviamente se è un tuo genitore sarà difficile liberartene, se è un tuo figlio sarà difficile liberartene però devi comunque mettere una distanza emotiva, non devi assorbire le emozioni negative devi mantenere un atteggiamento neutrale, un atteggiamento positivo e devi parallelamente imparare a creare, a coltivare delle relazioni positive cerca attivamente di stabilire, se invece si tratta di un fidanzato, una fidanzata quelli levati le dei coglioni, perché quelli non è che c'è un vincolo familiare che è come dire, è quello del tuo genitore, il tuo figlio, te lo devi tenere ma se si tratta di un fidanzato o di una fidanzata, levatelo dalle palle o di qualcuna del genere, toglietelo dai coglioni ma comunque in generale devi creare una distanza emotiva